siamo arrivati a passi veloci verso la fine dell'anno ed ecco per voi due raccomandazioni e un'idea raccomandazioni per la scuola dell'infanzia attivate una verifica dei bambini che andranno in prima per puntualizzare a che punto sono ed eventualmente dare consigli ai genitori sulle attività da fare nel periodo estivo e presentare in modo puntuale gli alunni alla scuola primaria per le verifiche usare le schede proposte proposte per fine anno una filastrocca per la diplomazione e due animazioni teatrali esami finali studenti dsa il solito problema di fine anno che cosa si può e che cosa non si può fare propongo una serie di domande e risposte per orientare sia i docenti che i genitori e adesso buon lavoro a tutti voi da vincenzo riccio